Salve a tutti i nostri utenti di Mondo Napoli. Siamo qui con il nostro consueto appuntamento dei top e flop della partita. Diciottesimo turno allo stadio di Guarmando Maradona arriva la Fiorentina di Cesare Prandelli. Una Fiorentina che arriva con buone speranze dopo l'ottimo match di Coppa Italia contro l'Inter che ha costretto appunto i Mirazzurri ai tempi supplementari. Ma il risultato parla chiaro. 6-0 del Napoli. Uno strarepante Napoli di Gennaro Gattuso. Una partita veramente di altissimo livello. Una prestazione dove è difficile. È stato difficile per noi della redazione trovare il migliore in campo ma poi ci siamo guardati in faccia. Abbiamo guardato in faccia la realtà. Abbiamo scelto lui come migliore in campo. Ebbene sì. Lorenzo Insigne, il nostro capitano, nelle ultime partite era parso talvolta poco lucido. Era stato subito preso di mira dai critici che ovviamente popolano il nostro mondo calcistico. Ma oggi una prestazione sopraffina. Due gol. Uno di questi sul rigore. Più un assist. Veramente una prestazione da grande campione. quella di Lorenzo Insigne. Innegabile l'assist dato l'azione fantastica sull'assist poi fornito all'Ozzano per il gol. Veramente una prestazione di altissimo livello. E ha confermato un po' anche le parole di Roberto Mancini che aveva detto nel corso di intervista in questa settimana che Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli, era sicuramente il più forte calciatore di questa Italia fino ad oggi. Ed è stato così. Una prestazione sublime. Una prestazione a cui Lorenzo ci ha abituato nel corso di questa stagione. Una maturità per il calciatore di fratta maggiore che forse mancava da tempo. Ebbene sì, il nostro top si chiama Lorenzo Insigne. Una prestazione di altissimo livello. Comunque per tutto il Napoli e anche altri calciatori hanno fatto una prestazione davvero, davvero molto, molto importante. E quindi, come il nostro solito in questo appuntamento dei top e flop, dobbiamo indicare anche chi è stato il flop. Ma questa volta, diciamo, c'è un flop un po' particolare. Il divieto. Nessuno, veramente nessuno, può essere il flop di questo match. Una gara stradominata dal Napoli sarebbe stato davvero assurdo che noi avessimo individuato un calciatore come flop. Quindi nessuno. Ma io mi sento di dire una cosa. Nei flop ci metterei quella categoria di tifosi che talvolta anche ingradamente criticano i nostri calciatori e criticano il nostro allenatore. Il Napoli è lì, è al terzo posto, con una partita in meno. In silenzio, nonostante le tante critiche, ancora oggi si conferma essere la squadra con la miglior difesa della Serie A e una squadra che quando è in forma riesce a concretizzare tutte quelle che sono le palle gol. Napoli-Fiorentina finisce 6-0 ed è un messaggio chiaro che la squadra di Gattuso ha voluto dare anzitutto a chi nell'ultimo periodo stava parlando troppo e poi l'ha voluto dare anche alla Serie A. Vi ringraziamo sempre per seguirci in questo nostro appuntamento. Scrivete nei commenti quelli che sono i vostri top e flop della partita che ci fa piacere sempre leggervi e seguiteci ovviamente sul nostro canale YouTube MondoNapoliChannel. Ciao a tutti utenti di MondoNapoli.